Come hanno trascorso il ferragosto alcuni VIP della tv, sicuramente in pieno relax, solo con l'imbarazzo della scelta tra mare o mantagna. L'influencer Chiara Ferragni si trovava in Grecia, con la mamma e le sorelle, a differenza del suo ex Fedez, che invece è sempre in compagnia del suo adorato e amato cagnolino Silvio. Il ragazzo ha trascorso il ferragosto in Sardegna, la famiglia della showgirl Michele Cuzzicher invece tutti in montagna, con Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesa e anche l'amica del cuore Serena Autieri. Antonella Clerici insieme al suo compagno Vittorio Garrone in Francia, e pensate un po', con l'oro c'era Cisaba della Zorza. Anto, al momento dei formaggi, sei felice? Felicissimo! Dov'è Cisaba? Stavo facendo le foto alla mise en place, vero? Alla mise en place, è bellissima! No, vai, ovviamente! Io una tovaglia la voglio anch'io, Anto. Questo è un compimento che vale! Esperta di Galatteo e amica di Antonella Clerici, invece Mara Veniera ha trascorso alcuni giorni alle terme di Viterbo. Insomma, tanti vippi hanno trascorso il ferragosto in giro per l'Italia e tanti in famiglia, ma tutti in completo relax, pronti per ripartire a settembre con ognuno con il proprio programma televisivo e sui social. Grazie a tutti!